il tribunale di venezia stamattina vai vai tranquillo ci siamo ci siamo ci siamo allora eccoci qua 6 7 8 9 e 10 allora come sempre aspettiamo io aspetto sempre due o tre minuti che diamo la possibilità a tutti di connettersi vi chiedo quando vi state connettendo come sempre di lasciarci un like come sempre di lasciarci commenti per poter entrare far parte di questo salotto che abbiamo rinominato il salotto anti aging del martedì quindi piano piano aspettiamo che si che si connettano tutti lasciateci un like oppure anche una condivisione eccoci qua allora vediamo di chi è il primo like di oggi lascia lasciami nei commenti chi sei salutami sabrina sabrina vincerai sicuramente una una consulenza gratuita perché sabrina devi sapere generale che è sempre la prima che ci commenta e soprattutto che segue le nostre live allora vedo che piano piano ci stiamo connettendo ecco anche graziella buongiorno anche tania oggi è veramente un buongiorno di solito diventa un buonasera adesso è un buongiorno grazie mille di tutto addirittura mi ringrazio ancora prima del tempo ci ringrazio ancora prima del tempo io lo so perché ci dite grazie perché oggi c'è gennaro qua con noi allora laura sì lo so che sei di torino ciao laura benvenuta dateci una mano se la sana e robusta e trasparente divulgazione l'andiamo a fare soprattutto grazie a voi grazie buongiorno anche buon pomeriggio anche a manuela soprattutto grazie a voi stavo dicendo che andate a condividere queste live oggi abbiamo ecco qua buonasera della segreteria ecco buonasera anche a te che gentilmente mi hai portato il caffè prima allora buongiorno ecco qua allora finalmente è una live oggi per me personalmente e lo sarà anche per voi molto importante come vi ho promesso nelle prime dirette di gennaio vi ho promesso dei grandi ospiti in una in una sfera dello star bene che per me risulta essere assolutamente fondamentale abbiamo qua uno io lo reputo uno dei miei punti fermi in italia dal punto di vista del della crescita personale è diventato famoso se mi permetti questo gennaro per il suo podcast che vi invito anche a seguire che si chiama psinella no psinella scusami ho sempre io problemi non so perché psinella di psicologia neurolinguistica e psicologia psicologo e psicoterapeuta il dottor gennaro romagnoli benvenuto gennaro e grazie della tua partecipazione grazie a te davide grazie per avermi invitato se è difficile il nome del mio podcast è uno scioglilingua brutto comunque se cercate gennaro romagnoli fate prima certo poi dopo nei commenti lasceremo i tuoi lasceremo i tuoi contatti allora devi sapere che io sto aspettando qualcuno che voleva ti voleva veramente su instagram prima mi hanno scritto mi hanno detto ma che ora mai così presto è non ti preoccupare io lo dico sempre eccoti qua e lettra eccoti anche te io lo dico sempre le dirette rimangono registrate vi chiedo anche spesso spegnete la televisione accendete il web perché a volte veramente trovate della della comunicazione vera trasparente senza interessi ed è quella che voglio fare oggi e adesso l'abbiamo messo un po da parte ma lo rimettiamo qua il titolo della diretta di oggi è la consapevolezza del movimento devi sapere gennaro che loro hanno già visto qualche cosa di tuo ma soprattutto hanno già avuto qualche live dove abbiamo parlato di quanto sia importante la connessione mente corpo e di quanto sia importante durante la giornata trovare dei momenti per noi però obiettivamente io sono un coach mi occupo di benessere mi occupo di movimento ma questa cosa che sto questa cosa che sto dicendo diciamo che tu sei un must in questo è anzi vi invito anche a seguirlo veramente sui social su instagram perché quotidianamente fa delle dirette super mega fighe super mega interessanti davvero allora benvenuto gennaro grazie davide allora di che cosa parliamo di consapevolezza del movimento volevo sì certo certo volevo chiederti un attimino eh tu ti alleni ti alleni gennaro io mi alleno mi alleno poco però quotidianamente anzi oggi non ci sono riuscito perché mi sono svegliato con uno strano mal di testa che è una cosa un po rara per me e quindi mi sono svegliato con questo mal di testa visto che ho tanti impegni avevo la nostra diretta eccetera non ho proprio avuto materialmente il tempo però io tutti i giorni faccio un po di cardio faccio un po di pesi faccio un po di questo da circa quattro anni e prima ero certo o sportivo della domenica adesso invece ho capito soprattutto parlando con persone come te che mi hanno iniziato a spiegare tutti i meccanismi e quant'altro ed io ho capito che avrei dovuto iniziare ad implementare l'allenamento e ho fatto benissimo e ho fatto benissimo certo qui abbiamo qui abbiamo proprio l'esercizio fisico ben dosato chi segue i nostri protocolli di allenamento ma soprattutto chi segue la pagina eh si allena esattamente come dici tu cercando e ritrovando un esercizio fisico che diventa non infiammatorio quindi non va ad essere la pea tutto ciò che è performance fisica ma va a ricercare il massimo stato di benessere psicofisico soprattutto Nadia guarda Nadia che è arrivata buon pomeriggio Nadia ha apprezzato molto la terapia che do perché nei nostri anti aging nei nostri settimane che diamo anti aging mettiamo la natur therapy anche ovvero un allenamento settimana dove che ti devi ritagliare per fare qualcosa qualunque cosa che desideri effettivamente fare come può essere per esempio quello di stare in mezzo alla natura o di stare con il tuo animale facendo delle camminate col tuo cane stando eh in mezzo a una foresta o altro e apprezzano molto me lo confermi Nadia e soprattutto volevo sapere un po' la cosa ne pensi di questo Gennaro ma io penso che sia un ottimo consiglio non solo per tutta la parte fisica che ovviamente tu e magari i tuoi ospiti conoscete anche meglio di me ma quello che posso dire oltre al fatto che è scientificamente testato che il movimento è addirittura superiore come effetto a tanti medicinali dal punto di vista psicologico questo non significa che il medicinale sia sbagliato se una persona ha una depressione maggiore o un bipolarismo ovviamente nel mio ambito psicoterapeutico è fondamentale il farmaco ma ci sono tanti studi che ci raccontano che nelle depressioni normali nell'ansia normale tra molte virgolette fare ad esempio una camminata al giorno di 30 minuti tre volte alla settimana ha un effetto molto simile all'antidepressivo inoltre per aggiungere un'altra cosa molto interessante sono una balanga di studi che ci dicono che passare un quarto d'ora 20 minuti al giorno nella natura immersi nella natura aumenta di non mi ricordo quanto in percentuale la nostra memoria la nostra creatività il nostro benessere sono studi super interessanti che partono da una semplice pianta messa sulla scrivania a un'immagine di una scena della natura fino al top cioè una camminata immersi nella natura quindi certo 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 infatti nadia ci dice stare in mezzo alla natura rigenera tanto effettivamente soprattutto il nostro sistema nervoso hai parlato stavi parlando di focus mentale concentrazione che purtroppo oggi è un po anche un un una parte difficile dello sviluppo della della nostra qualità di vita dell'innalzamento della qualità di vita e noi oggi viviamo davide in nell'era all'interno della quale abbiamo due tipi di problemi un overload cognitivo cioè una quantità estrema di informazioni c'è chi arriva a dire questa questa tematica non sappiamo quanto sia empirica cioè scientificamente testata ma si dice che un uomo di oggi rispetto a un uomo di 300 anni fa acquisisse acquisisca l'uomo di oggi l'intera quantità di informazioni che un uomo di 300 anni fa acquisiva nell'arco di tutta la sua vita in una giornata giornali internet televisione collegamenti e quindi sicuramente questo è il primo problema il secondo problema è legato a quello che si chiama super stimoli cioè in altre parole mai prima d'oggi l'uomo si è cimentato nel cercare di creare degli stimoli che attraessero la nostra attenzione gli stimoli ci sono da sempre dire che ad esempio l'uomo delle caverne non avesse stimoli o potesse stare più tranquillo è una cavolata perché effettivamente se l'uomo delle caverne stava tranquillo ha mangiato da una tigre quindi non credo che anche lui doveva stare parecchio attento ma la differenza è che oggi noi abbiamo cartelli pubblicitari scritte auto marchi loghi che sono studiati da scienziati neuroscienziati per catturare la nostra attenzione questi stimoli vari esperti del mondo dell'attenzione italiana carlo umiltà paolo legrenzi che sono psicologi che che hanno fatto la storia dell'attenzione in italia da sì di vista cognitivo ci parlano di super stimoli che catturano l'ottanta per cento in più la nostra attenzione noi non ci rendiamo conto la nostra testa continua a saltellare tra questi stimoli una cosa che fino a 300 anni fa ma anche meno non era presente certo certo noi parliamo sempre quando parliamo degli allenamenti ad alta intensità quindi poco tempo durante in un breve periodo 10 20 minuti ci danno già quello che ci serve non ci fanno fare un volume spazzatura d'allenamento ovvero tutto quel volume che facciamo tanto per fare tanto perché pensiamo di dimagrire piuttosto che al tempo stesso andiamo a rifare quello che facevano i nostri antenati ovvero il famoso sistema orto simpatico dove che c'è il sistema eccitatorio di quei 3 4 minuti dove si inseguiva e si ammazzava qualche qualche animale per poterselo poi mangiare la sera e poi dei momenti effettivamente dove gli stimoli andavano a diminuire abbiamo fatto una diretta natale parlando appunto di stress cronico e parlavamo delle notifiche di facebook delle notifiche di whatsapp delle mail che in modo continuo lasciano in maniera automatica questo i nostri ormoni sempre in subuglio e insultano un pochino quello che è il sistema l'equilibrio che abbiamo tra il sistema simpatico e il sistema orto simpatico buongiorno paolo ah sei riuscito intervenire anche ad arrivare anche oggi nel primo pomeriggio sono contento e quindi e questo è un po il discorso come possiamo gennaro gestire l'intera nostra giornata da questo punto di vista cioè quali sono qualche tecnica qualche cosa che qualche sistema che possiamo utilizzare in modo pratico per poter ovviare a questo overload che ci stai dicendo allora esattamente come per l'allenamento esistono varie gradazioni di cose che possiamo fare cioè una cosa è fare una passeggiata un'altra cosa è affidarci a un professionista che magari ci disegni la giornata e un'altra cosa è magari informarsi da soli attraverso libri dirette di facebook utili eccetera quindi diciamo che per regolare dare un po una regolamentazione alla nostra attenzione l'esercizio più potente mai inventato fino adesso è la pratica della meditazione un tipo di meditazione che oggi è diventata molto famosa ma che in pochi si chiedono perché la gente è convinta che questa la meditazione ma in fondo chiamiamola così in molti sono convinti che sia una moda perché meditazioni ci sono da millenni in realtà la meditazione mindfulness è tutt'altro che una moda in che senso è tutt'altro che una moda nel senso che ha più review scientifiche la mindfulness che la maggior parte dei farmaci dei trattamenti e quant'altro perché è successa questa roba se mi dai un minuto davide racconta un secondo certo è molto certo praticamente vai 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 all'inizio si litigava su sta roba c'era chi diceva è la meditazione trascendentale ma lo yoga ma l'ipnosi l'auto ipnosi possono fare bene possono fare male cerchiamo utilizziamo questa tecnica utilizziamo quest'altra poi a un certo punto iniziano a sorgere dei problemi gravi nel campo della psichiatria in particolare in quelli che sono i depressi maggiori che hanno un attacco chiamiamo così depressivo più di un attacco entro i 17 anni e che si vedeva che non si riusciva a fare niente con queste persone in altre nomi farmaci non funzionavano la terapia non funzionava continuavano a ricadere alcuni terapeuti degli anni settanta iniziano a dire guarda che la cosa che gli fa ricadere è il fatto che pensano tanto cioè il loro pensiero le seghe mentali chiamiamole come vogliamo certo di pensieri e lucubrazioni che li tiravano giù allora un certo punto qualcuno dice guardate che c'è una tecnica nel campo della meditazione che si chiama vipassana che la tecnica con la quale il buddha si è illuminato se uno vuole andare a controllare quella è l'unica tecnica che ha usato il buddha cioè tutte le altre tecniche che noi sentiamo di meditazione sono buddha successivi perché buddha è un essere umano non è un certo non è né un santone né una rincarnazione né un profeta né un souvenir esatto né un souvenir con la pancia tra l'altro perché probabilmente era mattissimo buddha però molto probabilmente perché immaginate quel periodo poi arrivava da una serie di digiuni cioè buddha è un san francesco buddha la storiella racconta come san francesco che buddha fosse ricco figlio di un re destinato a diventare principe mai uscito da casa sua un giorno fa un giro fuori di casa e vede la sofferenza e si dice ma perché io devo stare bene e loro male e inizia un percorso per alleviare la sofferenza e questa idea era soltanto nei centri mistici dell'india del periodo così inizia a frequentare gli oggi che poi yogi come si chiamano che facevano posizioni digiuni flagellazioni visualizzazioni le prova tutte e vede che però tuttavia nonostante sentisse un po meglio mancava sempre qualche cosa allora dice probabilmente l'unica cosa che io posso constatare è il fatto che il mio respiro entra e esce e che questo respiro entra e esce adesso tutto il resto è la mia fantasia adesso mi spiego meglio con chi ci sta ascoltando certo certo capirete lui si mette lì a fare questo esercizio scopre che praticamente questo esercizio gli consentiva di non essere più identificato con i suoi pensieri cosa succede che noi tornando ad oggi non ci rendiamo conto che la nostra mente è una specie di computer che continua a fare simulazioni sul mondo in altre parole voi vedete dei movimenti qua con la mia mano e quando la mia mano sparisce non è che sparisce dalla vostra attenzione la vostra attenzione si chiede cosa sta facendo la sua mano dall'altra parte e crea degli scenari alternativi su come funziona la nostra mano nostra mente fa questo quotidianamente questo però non è la realtà cioè nel senso è chiaro che la mia mano se fa così voi potete immaginare l'intenzionalità tra l'altro queste cose ha dei sperimenti psicobiologici bellissimi neuroni specchio la simulazione incarnata voi vedrete questo movimento ma la cosa interessante è che la nostra mente non può fare a meno di continuare a creare storie e creare simulazioni di queste storie però si incastra su queste storie e l'incastro su queste storie conduce allo stress addirittura dicono che per il 50 per cento del tempo noi siamo persi nelle nostre storie e che le nostre storie hanno la capacità di deteriorare il nostro corpo cioè è stato calcolato che più una persona immersa nel proprio pensiero e più il proprio corpo tende ad invecchiare e infatti c'è proprio un collegamento diretto con l'anti aging con l'idea di del primo un attimo fuori onda e quindi la pratica della meditazione è un esercizio non è un credo voi potete farla a niente dove senza credere a niente esattamente come faccio una corsa non devo credere che la corsa mi mi faccia diventare più in forma basta che io la faccia per un tot di tempo e naturalmente a meno che io non mangi veleno dal mattino alla sera e naturalmente vedo che ha degli effetti su di me la stessa cosa vale infatti paolo infatti paolo ci scrivere la mente ci spesso ci porta fuori rotta impariamo a guardarci dentro bravissimo paolo perché proprio questo che bisogna fare imparare a guardarci dentro senza diventare ciechi avrebbe detto un bravissimo psicoterapeuta del novecento si ma paul vatslavic che scrisse si chiama guardarsi dentro rende ciechi intendendo proprio il fatto che noi tendiamo a fare tante elucubrazioni mentali la gente è convinta davide che la psicologia sia filosofia e allora quando si parla di psicologia la gente conviene che quei termini siano la derivazione certo c'entra la filosofia tantissimo però la vera psicologia è applicazione empirica di teorie e messa messa in atto con trial e quant'altro cioè quindi è ricerca assolutamente ebbene la meditazione rientra perfettamente in questo e anche se adesso le mie paroline possono sembrare a qualcuno un po' filosofiche posso assicurarvi che non sono filosofiche affatto io ti assicuro che non pensano quello perché l'altra volta due o tre settimane fa abbiamo fatto anche dieci minuti di meditazione qui sulla pagina e e c'è stato veramente un esploat di emozioni e emozioni che abbiamo percepito anche in diretta noi eravamo in diretta e avevamo anche dei tra i commenti persone addirittura che ci dicevano che si sono scoppiata a piangere durante il momento quindi non lo so se sia positivo negativo forse magari c'è qualche emozione forte che canalizzata in maniera in maniera magari un po' strana guarda io ringrazio anche Marco che ci segue di sgamo quindi attenzione nascondo subito il tuo commento perché se il capo il capo guarda rischiamo di essere motivo di licenziamento quindi genaro se io faccio meditazione la faccio magari 10 20 minuti e scoppio a piangere che segnale che cosa vuol dire tante cose allora tante cose allora partiamo dal presupposto di nuovo che la meditazione è un tipo di esercizio che si si paventa in molti modi cosa significa che ci sono tanti tipi di meditazione se uno fa la meditazione mindfulness cioè orientata al momento presente senza aggiungere altro non dovrebbe scoppiare a piangere se scoppia piangere e perché probabilmente per tanto tempo ha cercato di controllare alcuni sentimenti che in quel momento li sono venuti fuori invece se si parla di altri tipi di meditazione come visualizzazioni ti faccio visualizzare che sei attorno c'è un fiume ti rilassi certo allora li possono esserci altre cause con cause legate al fatto che per l'appunto quella visualizzazione li ha fatto tornare in mente altri eventi oppure sempre un rilascio di del controllo emotivo della persona e quant'altro diciamo che l'idea che esista dentro di noi dei traumi e che questi emergano così è vera ma fino a un certo punto cioè nel senso non è che va a condurre alla sofferenza a meditare anzi è chiaro che è chiaro che in base alla soggettività in base a come io mi sento posso far venire fuori qualcosa del genere tuttavia di solito quando la gente piange perché abbiamo messo un po di suggestione nelle nostre parole quando conduciamo la meditazione quando conduciamo la meditazione dobbiamo costantemente fare riferimento al presente e non a quello perché noi non ce ne rendiamo conto ma ad esempio diciamo porta attenzione alla tua gamba e non lo so in modo rilassato tranquillo cosa succede al nostro cervello essendo una macchina un po stupida non scusate se la dico così è una macchina è un computatore è davvero un simulatore se tu gli dici adesso porta l'attenzione al tuo collo e senti il benessere la tua mente si chiede subito e che cosa non è benessere a ok una sega mentale si fa una sorta di sega mentale sì ma non lo fa perché non lo fa perché no no è cattiva lo fa perché lei vede tutto al contrario di tutto cioè se io dico bianco la vostra mente pensa cosa c'è dietro al bianco pensa al nero perché nostra mente è totalizzante vede tutto se ti dici è per questo che dire a se stessi adesso siamo dei curiosoni siamo dei curiosoni e questa curiosità si espande senza che noi ce ne rendiamo conto per questo fare ad esempio dei rilassamenti dove una voce ci dà delle suggestioni positive potrebbe non essere davvero positivo perché dipende da come la persona è di partenza però è questo niente di male se qualcuno piange capita no no certo capita spesso certo certo però insomma è che però in quel momento magari stiamo involontariamente inducendo una suggestione quindi quindi la meditazione quindi ritagliarsi dei momenti per se stessi quindi stare magari chiusi in una in un posto che ci dà tranquillità deve essere se non è guidata forse meglio inizialmente cioè se se la persona viene lasciata meditare in santa pace dove riflette basta potrebbe essere una cosa un po più positiva allora sì ma hai detto tante cose che che io certo 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 perché no perché il concetto qual è è che chi inizia oggi a fare meditazione inizia a ritagliarsi un momento per se stessi per abbassare tutto il discorso legato al colesterolo e il colesterolo il cortisolo quindi tutto quello proprio per fare un benessere anche metabolico ormonale al proprio corpo dobbiamo condurlo sei d'accordo quindi non possiamo semplicemente lasciarlo lì dire città i cinque minuti così magari il discorso del sentire la propria mano ho visto in in un'altra in un'altra diretta che hai fatto molto carina quando hai sottolinei proprio il fatto dell'essere nel presente cioè di perdonare il tuo pensiero proprio questa cosa se se ne va lo perdone con gentilezza lo riporto lì viene proprio percepita dall'altra parte inizialmente come qualcosa di positivo perché questo scappare che in teoria non va bene no dal momento dove siamo adesso che è qualcosa di automatico involontariamente dannoso verso la nostra qualità di vita assolutamente guarda guida allora ti rispondo prima alla prima domanda che è molto importante cioè se è giusto guidare o non guidare è giusto farla guidata ma ovviamente ripetiamo ci sono tanti tipi di meditazione se volete andare sul sicuro non 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 faccio pubblicità le mie robe scegliete una qualsiasi no no falle pure falle pure non c'è problema cioè non c'è problema qui siamo veramente tranquillamente anzi se ti ripeto se se hai dei canali pubblicizzali pure perché so che sei un grandissimo professionista per me l'unica cosa importante è che vi affidiate a un professionista per fare queste cose assolutamente se ti ci arriva ci arriva una mega domanda te la leggo allora per mia esperienza personale ho scoperto un mondo a me sconosciuto con pilates yoga ma straordinario l'unico momento per me nel cui è ora è tramite la respirazione immagino che l'aria mi entra e attraversa tutto il mio corpo e poi esce i pensieri spariscono resti connesso con te stesso nel momento presente grazie assunta della della tua considerazione volendo da un consiglio ad assunta assunta se vuoi migliorare ancora di più questa connessione evita di visualizzare l'aria e prova a sentirla e basta so che questa cosa qui è molto difficile è molto difficile ma la meditazione è sentire il nostro corpo non è pensare e quando tu visualizzi praticamente sei già ad un livello di pensiero mi spiego nella nostra concettualizzazione interiore ci sono prima le sensazioni immaginate il bambino nel grembo materno cosa fa il mondo lo esperisce attraverso le sensazioni poi attraverso il suono e poi crea quando esce fuori dalla pancia anche già dentro la pancia crea delle rappresentazioni mentali e poi il linguaggio noi siamo abituati al linguaggio tant'è che all'inizio quando uno medita si parla dentro l'aria entra l'aria esce il mio corpo si rilassa eccetera ma in realtà noi dovremmo andare sempre più verso la sensazione perché perché la sensazione è l'unica cosa nel qui e ora la sensazione dell'aria che entra che esce l'unica cosa nel cui ora se tu inizi a visualizzare ciò che succede che dopo un po di tempo è come se si disaccoppiasse la visualizzazione da ciò che senti per davvero cioè se io adesso vi faccio tutti quanti chiudere gli occhi immaginare una spiaggia dopo un po di tempo non sarete più nel qui e ora sarete nella fantasia della spiaggia che fa bene è un ottimo rilassamento parlo ma non è un allenamento per il cervello duraturo mentre invece un allenamento per il cervello duraturo è la propria accezione e sentire il nostro corpo che si gonfia che si sgonfia senza giudicarlo perché quello che succede questo ma sto respirando bene a non forse entra più dalla destra entra più dalla sinistra a forse no a forse dovrei stare più dritto a a no questo è il pensiero lo metto gentilmente da ed è lì che arriva quella gentilezza che descrivi prima metto gentilmente da parte torno alla sensazione vedrai che se lo farai gloria si chiamava gloria se lo farai con più assunta 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 scusami assunta se lo farai con con la sensazione più che con che con l'immaginazione diverrà ancora più profondo no questa cosa questa cosa è molto interessante perché è proprio quello va sul focus di quello che stiamo parlando oggi della consapevolezza del movimento cioè sto facendo uno hai parlato di una cosa bellissima il sistema di proprio eccettivo del nostro corpo quando parliamo noi di proprio eccezione nei programmi che andiamo a fare per proprio eccezione intendiamo proprio quel fatto di appoggiare un piede piede nudo a terra e di ascoltare mentre faccio l'affondo che cosa succede dentro il nostro corpo però la visione che diamo è una visione più muscolare di questo hai dato uno uno spunto eccezionale dal punto di vista mentale cioè ascoltare quello che sto facendo va bene va bene comunque stai liberando la mente e gli stai facendo qualcosa di estremamente positivo marco respirazione e ascolto obbligatorio per andare tra le braccia di morfeo ogni sera ottimo giusto corretto funziona anche quello soprattutto per il sonno quindi soprattutto per il sonno ovviamente anche qui con l'allenamento perché cosa su quello è il paradosso dell'insonnia il paradosso dell'insonnia è che noi perché diventiamo insonni nella maggior parte dei casi perché ci preoccupiamo della qualità del sonno cioè io sono lì nel letto penso cavolo c'ho cinque ore per dormire e se adesso non dormo bene e domani mattina come starò e tale preoccupazione ci induce a voler volontariamente addormentarci cosa che pochi sanno aveva anche sant'agostino sant'agostino che è stato un una persona un'altra persona straordinaria è diventato se fatto prete molto tardi infatti è molto divertente leggere delle sue storielle che diceva dio fammi fare qualche anno ancora di divertimento poi dopo mi faccio prete e e sant'agostino cosa fa risolve il tutto dicendo a se stesso questo lo racconteremo bodei con filosofo italiano e sant'agostino come risolve il tutto dice sia fatta la tua volontà c'è pochi sanno che quella frasetta lì nasce in quel contesto quando lui dice se la mia volontà non mi consente addormentarmi volontariamente allora sia fatta la tua volontà ora io non sono un credente non sono qui ovviamente per cominciare nessuno a credere ma dovete credere una cosa al fatto che avete una mente inconscia una parte di voi che è molto ampia molto più ampia della parte consapevole e che è molto buona al contrario di come l'aveva dipinta il nostro sigis mondo freud e che voi dovete affidarvi a lei del tipo il pensiero dovrebbe essere va bene lo stesso tanto sono sdraiato il fatto che io sia sdraiato con gli occhi chiusi già mi consentirà un buon riposo che è diverso da dire o mio dio se adesso non entro nello stato di sonno profondo domani mattina mi sveglierò bla 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 in altre parole sono sempre e sempre questa macchina che simula il mondo del futuro che in un qualche modo ci porta troppo distanti dal futuro è come se fossimo costantemente alla ricerca di una soluzione ad un qualche problema e questo ci conduce allo stress e all'insonno certo 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 no interessantissima questa cosa perché ci capitano spesso persone che hanno veramente problemi nel sonno e a prescindere dal discorso legato all'integrazione la melatonina il magnese eccetera eccetera sicuramente nella maggior parte dei casi ci troviamo di fronte a una serie di preoccupazioni giornaliere che poi ovviamente il periodo che stiamo vivendo sta enfatizzando ma come hai sottolineato il fatto di lasciare andare lasciare andare qualunque cosa quando facciamo per trattenere qualcosa io qui non mi voglio sostituire a te però io ho imparato da te e dai tuoi colleghi questa cosa cioè il fatto del che non possiamo controllare quello che accade fuori non lasciamo che quello che accade fuori vada poi a incidere sulla mia giornata perché perché l'esercizio fisico deve essere vissuto come un momento piacevole un qualcosa che voglio fare tutte anche le fisse che ci mettiamo in testa voglio questo voglio l'altro voglio l'altro perché poi fondamentalmente cioè inutile andare a pensare voglio una cosa devo per forza avere quello un conto è la volontà di riuscire ad arrivare però come tu mi insegni la volontà è finita a un certo punto finisce la forza di volontà mentre dall'altra parte c'è la nostra passione c'è qualcosa che ci piace fare se noi trasformiamo tutto quello che sono i pensieri negativi in qualcosa di voglio fare qualcosa vedi genaro uno dei motivi più più grandi sui quali mi ritrovo a lavorare dal punto di vista psicologico tante volte è proprio questo dei dei blocchi mentali di persone dentro una dentro una routine che prevede un modo serrato di vivere che non ha più spazio per loro ma ha spazio solo per gli altri vado al lavoro torno no devo tornare per cucinare perché poi in quell'ora devo cucinare per la mia famiglia poi devo tornare al lavoro poi devo cioè sono dipendente da tutto è quello un po il concetto no andiamo a dipendere da qualcosa di esterno sia mentalmente ma poi anche diventa fisicamente e fisicamente è dura stare dietro tutti valerio buongiorno qui è ora direttore di di un centro benessere come ogni tanto viene fuori sempre il discorso andate a trovare valerio tra l'altro ischia se non sbaglio valerio è di fronte al mare bellissimo il tuo centro termale è qualcosa di di davvero fantastico allora vuoi aggiungere qualche cosa beh ancora qualche minuto vai certo che qui e ora è un libro bellissimo di ronald sigel sono due i sigel che girano sulla meditazione uno si chiama daniel e ronald sono due e due molto bravi ronald ha scritto un libro bellissimo che chiama qui e ora che secondo me è un ottimo testo per chiunque voglia iniziare e implementare questa forma mentis nella propria vita e in ultima analisi vorrei dire che se la volontà come detto giustamente è limitata sostituiamo la volontà con le sane abitudini cioè quando noi creiamo una buona abitudine non abbiamo bisogno della forza di volontà la forza di volontà è come l'energia che sta dentro un razzo spinge 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 e poi a un certo punto finisce troppo velocemente e quindi è meglio usarla ovviamente ma utilizzarla per far sì che siano delle abitudini come le creiamo le abitudini anche costruendo dei ripetendo certe azioni ovviamente ma facendosi queste azioni siano collegate ad altre vecchie abitudini cioè se tutti i giorni non lo so mi lavo i denti e voglio non so leggere dieci pagine del libro metto accanto spazzolino il libro di modo che io quando sto mi lavo i denti vedo il libro questa cosa attiva dentro di me certo energia di attivazione e io posso creare queste cose ad esempio se vuoi andare in palestra mi creo mi preparo già la borsa oppure faccio in modo di faccio in modo che l'energia necessaria per fare quella tal cosa sia la più bassa possibile e questo ci aiuta a creare delle abitudini positive certo certo proprio per questo che siamo arrivati a creare dei protocolli da divano nel senso che fa un po ridere detta così nel senso che utilizziamo il divano per fare esercizio fisico quindi che ne so un push up invece di far l'hotel di terra lo usiamo usiamo il divano che cosa vuol dire vuol dire che paradossalmente mentre per qualcuno è stata deleterio il fatto che sia si sia chiusa la palestra e non posso più andare non posso fare più esercizio è diventato un problema di vita effettivamente per chi l'aveva inserita come abitudine da anni per altre persone invece è stata un toccasana perché perché c'è stato questo approccio agli allenamenti fatti proprio in casa adattati a quello che abbiamo quindi un divano una sedia o altro che fa sì come dici tu dove necessiti neanche di metterti le scarpe puoi stare appena nudo togli le ciabatte inizia a fare i tuoi scuoti inizia a fare push up questa cosa è esattamente io mi collego quello che stai dicendo che è qualcosa di veramente inestimabile perché se venisse preso bisogna prendere quello che sta dicendo gennaro e farlo proprio cioè ci parlava di lavarci i denti fatelo perché se non sperimentate le cose provate ad iniziare a farlo e sono sul divano non devo non devo ne pensate che non devi neanche farti la borsa andare in palestra e cambiarti iniziare poi quando sei in palestra trovi quello là trovi quell'altro si allunga il tempo ci metti quattro ore per fare un allenamento di mezz'ora in casa ce la fai e assunta la faremo l'abbiamo già fatta ti ho detto che la riproporremo all'interno del nostro gruppo privato qualche meditazione guidata e allora non viviamo il momento ci dice valerio abbiamo la testa sempre a pensare a quello che accadrà ecco allora paolo adesso andiamo anche noi non ti preoccupare per mio dispiacere devo tornare al lavoro grazie dell'ottima diretta grazie a te per aver partecipato allora vogliamo aggiungere qualcosa gennaro prima di concludere per concludere dico appunto se volete fare delle buone meditazioni guidate io ho un'applicazione gratuita si chiama clarity lo trovate su per qualsiasi dispositivo online o comunque se andate su clarity clarity se andate su youtube e scrivete meditazione mindfulness mindfulness scritto così troverete tante tante meditazioni da parte di miei colleghi amici che hanno fatto un buon lavoro perché vi indico queste vi ripeto ci sono tanti tipi di meditazione c'è la trascendentale ci sono le visualizzazioni ci sono i rilassamenti ma tutta quella roba lì mi dispiace dirlo ma nei confronti della evidence base della mindfulness sono sono funzionano ti rilassano ma la mindfulness è un vero esercizio che dopo un po di tempo rafforza il vostro cervello oltre che ridurre lo stress e consentirvi di vivere meglio ecco sì per non parlare di performance fisica per cui di come vada ad influire sulla sulla performance fisica gennaro io che dire sapevo che avresti dato un grandissimo valore sulla pagina perché per noi queste dirette sono veramente inestimabili non solo per noi ma poi lasciateci anche tra i commenti so che chi qualcuno che è connesso oggi si è preso magari in qualche modo anche la possibilità la briga di andare da qualche parte a nascondersi per ascoltarci e soprattutto per ascoltare te io ti ringrazio e vi invito a seguirlo io poi vi lascerò tra i commenti il sito anche e tutti i riferimenti vi do appuntamento per martedì prossimo dove avremo una diretta molto importante col dottor lombardi parleremo della dei lavori degli esami da fare dei test da fare per sapere se sto bene se sono in forma oppure no quindi vedremo anche il discorso regato al test sugli antiossidanti sugli omega ce ne saranno veramente di cotte di crude grazie gennaro grazie della partecipazione io spero che tra tra qualche tempo tornerai qua con noi a parlare di nuovo tema grazie per gli spunti che ci hai dato ti ringraziano anche tra gli ascoltatori anche patrizia vedi e ciao a tutti grazie mille e ci ci vediamo martedì ciao a tutti